Ciao a tutti ragazzi e ragazze bentornati e tornate sul canale andiamo con un altro dei nostri interattivi la domanda di oggi è perché questa situazione è tanto frustrante quindi contestualizzate voi abbiamo di nuovo un interattivo con una domanda molto aperta ciascuno di voi può decidere in che modo declinare l'interattivo quindi il modo sceglietelo con calma prendetevi tempo se serve, interrompete il video, scegliete voi il colore della gommina gommina gialla, gommina viola, gommina salmone e io direi di iniziare, andiamo a vedere perché questa situazione che voi sapete è tanto frustrante allora spostiamo due delle varianti e iniziamo con la variante salmone eccoci qua, la gommina si vede questa situazione è tanto frustrante perché nonostante tutto l'impegno che io abbia messo e continui a mettere nel nostro rapporto è come se ogni volta per una stupidaggine si preferisse dar vita allo scontro e non invece alla pacificazione ci dovremmo amare, ci dovremmo voler bene, ci trattiamo come peggiori dei nemici dovremmo fare di due a uno, dovremmo compenetrarci dovremmo fare l'amore dalla mattina alla sera, non dovremmo litigare invece è come se non riuscissimo quella che dovrebbe essere vicinanza e contatto diventa fastidio, epidermico noi che dovremmo partecipare l'uno nell'altra che dovremmo completarci, che dovremmo divenire dinamo per emanare energia, amore, calore per far vedere al mondo intero quello che noi siamo e che proviamo eppure rimaniamo in contrasto quella che dovrebbe essere l'apertura delle braccia per offrire un abbraccio diventa una sorta di esplosione, di detonazione in cui tutti i pezzi del nostro cuore vanno a intrangersi l'uno contro l'altro cioè diventa come essere travolti da una scarica di vetro, di proiettili cioè fa male, quello che dovrebbe essere il frutto il bene più profondo di questa nostra conoscenza di questo nostro rapporto diventa anche la sofferenza più grande questa situazione è molto frustrante perché io mi sono affidata a te forse all'inizio ho avuto anche paura ma alla fine mi sono affidata a te ho compiuto il salto e non avevo alcuna certezza non avevo nulla sotto di me che potesse proteggermi o parare la caduta nel caso in cui tu non mi avessi afferrata e infatti la caduta c'è stata c'è stata la fine improvvisa c'è stata la rottura totale c'è stato il capovolgimento della situazione mentre poco prima mi sentivo volteggiare nell'aria con le braccia rivolte a te è stato un attimo subito dopo mi sono vista a testa in giù cadere cadere senza proiezione senza nessuno sotto che potesse accogliermi o raccogliermi mi ero sentita una regina al tuo fianco e all'improvviso mi sono trovata in miseria tutto quello che credevo di aver costruito insieme a te l'ho perso immediatamente tutta quella che doveva essere la nostra ricchezza è diventata semplicemente la nostra povertà questa situazione è frustrante perché tutto è cambiato all'improvviso in maniera troppo rapida io non ho neanche capito quando e come è iniziata la discesa nel nostro rapporto che cosa sia andato storto noi che vivevamo così bene l'uno compenetrava veramente l'altro noi l'uno a fianco dell'altro dove iniziavo io e dove iniziavi tu alla fine non riuscivamo più a riconoscere la differenza si era fusi l'uno nell'altro ed era tutto molto naturale eppure all'improvviso qualcosa deve essere tornato forse nella tua vita, non lo so, nella mia il ricordo del passato, il rancore forse abbiamo stravolto anche il pensiero di quello che siamo stati in precedenza e forse abbiamo cominciato a rinfacciarci cose che all'epoca quando le abbiamo vissute non erano poi così male io non lo so cosa sia accaduto che cosa abbia logorato il nostro rapporto io con te mi sono sentita rinascere e credo anche tu con me è stato un rifiorire l'uno con l'altro l'uno nell'altro e non vedevamo l'ora di stare assieme ogni occasione era buona ci si rincorreva, ci si cercava eravamo uno la stagione dell'altro e stavamo sempre bene perché ogni stagione era giusta per i nostri incontri era leggero era tutto molto spirituale era tutto molto anche umido era tutto molto sensuale a me piaceva abbandonarmi su di te e piaceva anche che i miei pensieri si fondessero con i tuoi si confondessero o che la mia stessa volontà si annullasse per lasciarsi trascinare dalla tua volontà perché all'inizio io non ho mai sentito elementi di conflitto di contrasto io mi sono lasciata andare mi sono lasciata trasportare io mi sono abbandonata in te su di te e ho seguito il flusso dei nostri sentimenti all'improvviso poi qualcosa è successo che non ho capito e non riesco a capire tuttora dove quel dare che era anche un ricevere in maniera automatica senza nulla togliere dall'altro è diventato un prosciugarsi e prosciugare a vicenda è stato un togliere dove tutti e due cercavamo di levare qualcosa all'altro o anche senza la volontà di farlo questo ottenevamo come risultato e nessuno dava più un amore che si è trovato prosciugato che si è trovato risucchiato da qualcosa che ancora oggi non comprendo io provo a richiamare alla mente tutti gli avvenimenti provo a richiamare ricordi e quello che vedo è anche tanta gioia tanta felicità ma mi sembra ormai tutto così lontano mi sembra un sogno mi sembra tutto finto forse l'ho sognato veramente non lo so io so solo che te ne sei andato io so solo che hai aperto quella porta che sei uscito io so solo che non mi hai detto nulla e sto ancora aspettando io sono sulla soglia e io il volo non riesco a prenderlo io non riesco ad allontanarmi e non riesco a dimenticare vorrei affrontare la vita momento per momento vorrei riuscire a recuperare la leggerezza e anche la fiducia che io avevo nel futuro e che ora non sento più io avevo la capacità di saltellare l'equilibrio anche sulle difficoltà adesso invece mi sento completamente vincolata al presente come un peso e come qualcosa che mi va a schiacciare a fermare a immobilizzare mi sento schiacciata questa è la sensazione che ho la sensazione è frustrante come la situazione perché sento di iniziare a non farcela più io non riesco più a resistere a sorreggermi a darmi fiducia e anche ad amarmi sto iniziando a cenere lo so dovrei rinascere dovrei risollevarmi da questa situazione forse dovrei tirar fuori anche la rabbia e alla fine celebrare che cosa la mia anima la mia essenza il fatto che anche io ho una dignità e che merito amore e che molto probabilmente dovrei innanzitutto amare me stessa e poi gli altri eppure no vado vagabondando vagabondando portando tutto sulle mie spalle tutto il necessario quel poco che ho trattenuto di noi del ricordo di quello che ci faceva simili io me lo porto tutto dentro me lo porto tutto sul gruppone e procedo solitaria cercando una direzione cercando uno scopo eppure sto semplicemente perdendo tempo questo è quello che sento che più di tutto mi frustra mi frustra tantissimo perché vorrei recuperare la leggerezza anche un po' di follia anche un po' di azzardo la volontà di parlare con la luna con le stelle con i fiori di parlare con la natura io ormai mi sono chiusa a tutto e a tutti e mi sono vincolata in un'attesa che non porta a nulla non riesco più a celebrare la vita io che avevo un carattere gioioso adesso sento di aver perso tutto tutta la mia gioia e il fatto che non riesco neppure ad avercela con te questa è la cosa che più di tutte mi logora e soffro terribilmente perché soffro per te che ti sei comportato così nei miei confronti e per me che continuo a comportarmi in un modo inaccettabile un tempo mai avrei creduto di potermi trattare così male invece adesso sono la prima persona che non rispetta se stessa è vero però che insieme abbiamo sperimentato l'unione totale abbiamo sperimentato un'energia pazzesca abbiamo sperimentato il riconoscimento l'uno nell'altro cioè non ci serviva nulla noi eravamo completi l'uno nell'altro uno era il faro dell'altro uno era l'orizzonte il cielo verso il quale volgere lo sguardo la guida da seguire ci siamo aiutati insieme siamo riusciti a creare tante cose abbiamo fatto tante cose siamo riusciti anche a tirar fuori da noi la parte più bella quella poetica quella creativa quella costruttiva ci siamo amplificati anche nelle sensazioni nelle emozioni nelle percezioni io credo che in fondo noi ci siamo anche aiutati spiritualmente l'uno ha aiutato l'altro a crescere nonostante tutto il dolore che è conseguito poi la separazione e infatti non ce la faccio più la situazione al momento è veramente rammatica e lo dico da sola a me stessa non ho più forze per resistere non ho più scuse a cui aggrapparmi e non ho più risorse da tirare fuori almeno così io mi sento mi sento molto frustrata perché non vedo alcuna possibilità non vedo un orizzonte davanti a me e mi sento molto molto stanca bene ragazzi questa è la prima variante in queste letture si canalizza molto non vogliamo usare la parola canalizzazione non stiamo canalizzando stiamo seguendo l'intuizione la percezione profonda comunque io mi scuso perché a volte nel rincorrersi le parole si sovrappongono e di questo vi chiedo perdono però è per non perdere il filo e il filo è tutto di pancia non è assolutamente di cervello detto ciò andiamo con la seconda variante mi sento molto frustrata ed è una condizione che perdura già da molto tempo io mi sono accanita nello sfidare il destino io non ho lasciato che le cose andassero come stavano per andare come forse avrebbero dovuto io ho percepito che qualcosa sarebbe cambiato e mi sono opposta mi sono opposta proprio voltandomi contro e affrontando quei cambiamenti con rabbia io mi sono rivoltata contro cioè io mi sono rivoltata contro anche le mie stesse paure ho fatto cose che in un altro momento della mia vita non avrei mai fatto nonostante fossi logorata dai sensi di colpa e nonostante non riuscisse a vedere una possibilità di soluzione io ho lottato e forse ho sbagliato perché all'improvviso poi mi sono trovata da sola mi sono trovata da sola ad affrontare una strada non conosciuta senza sapere neppure quale fosse la meta a me destinata eppure con tutta la mia solitudine con quel poco che avevo addosso mi sono avviata ho deciso di rimettermi in gioco ho deciso di provare a risplendere nuovamente mi sono data nuovamente fidusa e l'ho fatto perché volevo riuscire ancora a offrire qualcosa ad altri forse la situazione chiusa mi aveva sicuramente debilitata molto però è come se dopo il primo accanimento all'improvviso si fosse riaperta la speranza di poter ricominciare e condividere di nuovo i miei pensieri ed ecco che di nuovo la vita si è accadita contro di me e di nuovo la sofferenza di nuovo la solitudine di nuovo la chiusura dal resto del mondo e io non ho capito perché io ho fatto di tutto non ho fatto nulla di male su questo ne sono certa ho cercato di dare tutto quello che potevo agli altri ho saputo attendere ho saputo pazientare non ho imposto i miei ritmi ho seguito i ritmi che l'universo il cosmo le stagioni le situazioni le persone mi riproponevano e mi proponevano non mi sono mai imposta e forse l'errore è stato questo quello di proiettare l'immagine degli altri su di me indossare la loro maschera non ascoltare più il mio cuore e essere così di conseguenza vincolata dai desideri altrui probabilmente l'errore più grande che è anche la causa della mia frustrazione è il fatto di aver abdicato la mia volontà per seguire quella degli altri e tutto questo ha iniziato proprio quando per quel grande amore in cui mi ero totalmente fusa e persa ho iniziato a smarrire anche la strada di casa non ho più riconosciuto il mio volto dopo un po' non riuscivo più a prendermi in considerazione io vivevo solamente in funzione dell'altra persona e così ho iniziato a snaturarmi sebbene la coppia iniziasse poi di conseguenza a cerveggiare anche una sorta di insoddisfazione e anche di falsità perché in fondo snaturare se stessi è come indossare una maschera per quanto lo si faccia con il solo scopo di poter rendere felice l'altra persona io non potevo trasformarmi nella tua stessa tipologia di essere umano la tua corteccia era ben diversa dalla flessosità del mio stelo e il mio errore è stato proprio quello di dimenticarmi di me io ho preso sulle spalle tutte le difficoltà che non erano mie e non solo ho fatto quello mi sono lasciata pure comandare e gestire a bacchetta e l'ho fatto con una devozione un'abnegazione di cui mi vergogno la cosa peggiore è che io mi arrabbio con me io ce l'avevo la chiave la possedevo la chiave per fuggire per aprire quel cancello per togliermi quelle gacce di torno per scappare andare verso un futuro migliore eppure sono rimasta al di là del cancello ho accettato tutto ho sopportato tutto nonostante la voce interiore mi dicesse e mi suggerisse di fare altro di rimettermi in gioco di rimettermi in circolo di avere fiducia in me di azzardare quel volo per cui non erano necessarie e ne erano previste altre ali se non le mie braccia e nel momento peggiore della mia vita in cui avrei dovuto amare solo me e aver fiducia in me io mi sono annullata per un'altra persona e l'ho capito solo dopo molto tempo quando dopo molte sofferenze sono riuscita pian piano a recuperare la mia indipendenza e dopo che con molte sofferenze e molta attesa ho cominciato nuovamente a fare cose per me stessa ad amare la mia solitudine ed è così che con il passare del tempo piano piano ho recuperato forza ho recuperato fiducia e man mano anche i primi frutti hanno iniziato a colmare il mio cestino e iniziarò anche a cogliere i primi frutti di cambiamento in positivo la voce interiore che mi parlava nel momento in cui ho cominciato pian piano a risalire la china si è fatta placido silenzio un silenzio che è diventato come una sorta di foglio bianco ed io ho compreso che avrei potuto da lì ricominciare a scrivere una nuova storia senza portare con me le conseguenze di tutto ciò che era accaduto in passato e che molto probabilmente aveva segnato molto la mia anima ma soprattutto con sentimenti negativi mi sono potuta fermare mi sono potuta concedere un momento di riposo di pigrizia di attesa ho tergiversato perché volevo far non mi sono imposta nulla non mi sono giudicata mi sono accettata mi sono date i miei tempi ho cominciato a risperimentare anche la mia presenza nel contesto a ricordarmi che oltre al contesto ci sono anche io che sono a mia volta al contesto di qualcun altro e come io potevo amare gli altri era giusto anche che gli altri amassero me e che io ricercassi questo atteggiamento ho cominciato a fidarmi di me ho cominciato a seguire la mia voce interiore ho cominciato a prendermi la responsabilità delle mie azioni perché il primo maestro siamo noi per noi stessi ed è così che ho accettato la mia solitudine come una grande virtù come un inestimabile valore come le acule che non volano stormi e che si innalzano nel cielo sovrastando la vallata e vedendo da lontano il tramonto quindi il chiudersi di qualcosa io con la stessa regalità ho saputo alleggerirmi e allontanarmi da tutte quelle situazioni che mi avevano logorato sono riuscita a tirarmi fuori da tutti quei meccanismi sporchi in cui la mia libertà e il mio equilibrio erano relegati alla scelta altrui farmi cadere o no ecco io non avevo la libertà potevo solo subire una scelta altrui ho iniziato di nuovo a celebrare la vita a danzare sotto la pioggia ad amare e ad essere amata e a concedere anche fiducia al prossimo e a nutrire le amicizie che probabilmente per molto e troppo tempo avevo messo da parte mi sono riscoperta fanciulla ingenua e amante delle novità ho recuperato il mio fanciulla interiore e ho concesso lui di sperimentare nuove realtà di individuare nuovi orizzonti concedendo anche a lui la libertà di poter andare senza paura mi sono data fiducia mi sono ricollegata con la parte profonda di me stessa con la mia stessa fonte con il mio plesso solare ho cominciato a recuperare luce, energia e calore e la cosa più bella è che dopo tante sofferenze adesso finalmente riesco a vedermi per quello che sono e a percepire la grande ricchezza che porto dentro e la grande ricchezza che ho conquistato dopo un lungo percorso di lavoro personale interiore e anche di grandi sofferenze questa ragazzi è la variante 2 la gommina gialla e adesso andiamo alla terza variante alla gommina viola perché è così frustrante questa situazione perché non mi sono mai concessa di essere me stessa eh no io dovevo rispettare le regole dovevo rendere conto essere conforme alle norme alla morale alla legge io non mi potevo permettere sofferenze debolezza far scappare una lacrima sulla guancia farmi vedere debole e umana mai non l'avrei mai fatto mi sono imposta questa vita eppure stavo spegnendomi c'era sempre qualcosa che comunque mi mancava e il mio desiderio più grande era semplicemente quello di colmare quel vuoto che dentro di me mi stava devastando cosa ci fai con un puzzle a cui manca un pezzo hai tutti gli altri ma manca un pezzo non puoi fare altro che prendere il puzzle e gettarlo nella carta straccia io mi ero chiusa mi ero totalmente chiusa per controllarmi avevo chiuso anche tutte le mie possibilità di apertura verso il tutto la mia sensibilità la mia voce interiore la percezione il sesto senso ma anche a livello epidermico ero diventata veramente antipatica a me stessa refrattare a tutto come avrei potuto farmi conoscere o trasmettere qualcosa di me anche a un'altra persona se avessi continuato in quell'atteggiamento la situazione era veramente frustrante anche perché in fondo io mi rendevo conto che poco avrei dovuto avrei dovuto chiedere poco alla vita per sentirmi appagata e poco mi sarebbe bastato o stato necessario per sentirmi appagata l'abbondanza in fondo ce l'avevo tutto intorno ero io che mi ero estraneata dal contesto io che me ne ero tirata fuori perché io l'avevo giudicato io lo vedevo l'orizzonte verso il quale andare vedevo la luce la vedevo la strada ma non mi incamminavo mai o forse all'inizio ho anche tentato ma poi ho abbandonato io stavo logorandomi a causa del circolo vizioso della mia mente in cui mi ero completamente fatta da cui mi ero fatta completamente assorbire io stavo rischiando la nevrosi se non addirittura la follia fino a quando qualcosa è riuscito a strapparmi alla sofferenza e alla frustrazione di questa situazione forse qualcosa si è risvegliato dentro di me o un aiuto esterno ancora non saprei so solo che all'improvviso qualcosa ha iniziato a guarire a riequilibrarsi piano piano dentro di me è sorta la possibilità di un nuovo punto di vista di una nuova visione ed è così che ho abbandonato tutte le vecchie credenze ho iniziato ad alleggerire il gioco del dovere ho iniziato a lacerarmi il corpo per far uscire l'anima la mia coscienza pretendeva possibilità di esistenza e di espressione ho iniziato pian piano ad ascoltarmi qualcosa ha iniziato a smuoversi i miei centri energetici hanno iniziato a vibrare ed è stato un dolore immenso all'inizio fino a che all'improvviso tutto si è armonizzato e ho trovato la pace la situazione era molto frustrante perché mi ero allontanata dalla mia essenza e distruggevo tutto quello con cui entravo in contatto quando invece avrei dovuto semplicemente creare 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 da me stessa perché il potenziale l'avevo dentro io che mi ero camuffata pur di essere accettata dagli altri con la forza che avevo il ruolo che potevo ricoprire la mia dignità mi ero fatta piccola per paura di essere emarginata piano piano però poi ho capito che essere una dei tanti equivale ad essere nessuno la situazione era molto frustrante perché io mi giudicavo di continuo e passavo tutte le cose che avevo già vissuto al vaglio della ragione in questa stritolante strettoia del presente io volevo giustificare il futuro sulla base delle azioni del passato e così mi negavo la possibilità di esistenza piano piano però questa trasformazione forse perché ormai avevo veramente toccato il fondo raggiunto la parte peggiore di me questa trasformazione ha iniziato a mettersi in moto piano piano sono riuscita a liberarmi dal gioco dei condizionamenti da queste catene nelle quali io stessa mi ero lasciata ingambiare piano piano ho iniziato a recuperare la semplicità di innocenza e l'ingenuità di chi non giudica niente e nessuno ma soprattutto non giudica se stesso ho iniziato piano piano a perdonarmi ho iniziato a trovare dentro di me il compromesso per poter andare avanti ho iniziato a pacificare il mio cuore con la mia ragione non ho rimandato più le cose che mi premevano anzi ho iniziato a colorare con colori vividi il mio futuro lasciando alle spalle il grigiume del passato ho cominciato a ridipingere la mia esistenza a ridonarle senso mi sono dovuta fermare e mi sono dovuta concentrare ho dovuto sperimentare la paura dell'ansia la paura degli attacchi di panico la paura della solitudine e ho sfiorato anche l'orlo della follia fino a che non sono riuscita a trovare l'equilibrio dentro di me e a rimettermi in moto a lasciar scorrere a lasciar andare via la tensione e ho iniziato a permettermi di essere essere me stessa guardandomi dentro ho iniziato a fregarmi nelle condizionamenti esterni e dico la morale che non mi rispecchiava per rispecchiarmi nella morale che portavo dentro di me ho iniziato a sperare a sperare che la mia esistenza potesse sollevarsi da quella condizione e potesse ricominciare in maniera genuina e nuova ho avuto il coraggio alla fine di spucciare anche nel terreno arido dei miei pensieri nelle mie frustrazioni delle mie paure mi sono fatta coraggio ho tirato fuori la mia anima e ho lasciato che iniziasse a risplendere le ho dato la dignità gliel'ho riconosciuta mi sono resa conto che il vero blocco ero io per me stessa e ho iniziato piano piano a seguire il mio sesto senso a sviluppare delle aperture diverse e anche a lasciare che il mio occhio interiore iniziasse a guardare il mondo con i suoi occhi piano piano sono riuscita a liberarmi di quella morale che all'inizio non era altro che terribile controllo sulla mia esistenza la situazione era frustrante perché io non riuscivo a lasciarmi andare e invece piano piano sono riuscita anche a non giudicarmi più sono riuscita ad accettarmi limiti pregi ma anche difetti nella fragilità della mia condizione umana ed è così che ho iniziato anche a volermi bene è stata una lotta estenuante è stata una lotta terribile era tanto il peso dei condizionamenti che portavo addosso come un'armatura che mi limitava certo in parte quei condizionamenti mi hanno protetto tante volte ma era solamente un fuoco di paglia era solamente effimera nebbia che piuttosto che nascondere me per proteggermi nascondeva l'orizzonte da me e non mi permetteva di essere ci ha voluto tanto per uscire fuori da questa situazione molto frustrante però alla fine ho recuperato tutto il mio coraggio e ho celebrato il mio trionfo grazie a tutti i nostri spettatori